Sarà il sindaco di Ponsacco in provincia di Pisa, Francesca Broggi, a guidare l'assemblea dei giovani colleghi gli under 35. È stata eletta all'unanimità, un'assemblea particolarmente partecipata grazie alla presenza di circa 80 tra sindaci, assessori e consiglieri comunali da tutta la regione. Francesca Broggi, 31 anni, al secondo mandato, dopo aver sottolineato l'importanza della sua candidatura unitaria sostenuta da amministratori di ogni colore politico, ha ribadito quanto i giovani possono contribuire alla vita dei comuni e dei territori, in particolare su temi come l'agenda digitale, l'innovazione tecnologica e la tutela dell'ambiente. Sono assolutamente onorata e per questo voglio ringraziare tutti i giovani amministratori che hanno deciso in maniera unitaria e trasversale di dare la fiducia alla mia persona. Ci aspetta un grande lavoro che è quello di rappresentare le istanze dei comuni e in particolare di tutti gli amministratori under 35. Quindi vogliamo esercitare un ruolo positivo e propositivo assieme ad Anci Toscana nei confronti del governo e del governo regionale. I giovani amministratori hanno un peso importante anche in Toscana, rappresentano circa, penso per esempio, ai sindaci l'8% rispetto a quelli che sono la totalità di sindaci in Toscana. Io credo che noi possiamo portare avanti una visione che è anche una visione generazionale fondata sull'innovazione, l'agenda digitale, l'innovazione tecnologica, tutte le sfide ambientali per rappresentare le istanze di quel movimento nato con il Friday for Future che dovrà tradursi in un'agenda concreta a livello di politiche amministrative e locali ma anche regionali e nazionali.